Una caccia alle streghe o c'è dell'altro a chiederlo e chiederselo sono i gruppi PD e 5 Stelle in comune di Montesilvano. I fatti sono quelli conseguenti al bando di concorso per l'assunzione di un dirigente amministrativo contabile a tempo indeterminato pubblicato sull'albo pretorio dell'ente e sulla gazzetta ufficiale numero 64 del 12 agosto 2022 e i rumors che iniziarono a circolare nelle stanze di Palazzo di Città. E' stato un concorso sufficientemente attenzionato da pronostici che poi si sono rivelati veritieri tant'è che noi nel raccogliere questi rumors di sottofondo abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo inviati delle PEC a vicenda riportando il nome del vincitore. Profezia a stile Nostradamus confermata dalla determina dirigenziale di aggiudicazione 127 dello scorso 27 ottobre. Abbiamo deciso di fare sia un accesso agli atti per verificarne a livello procedurale la regolarità ma effettivamente quindi non abbiamo ravvisato delle incongruenze. Le uniche anomalie che negli atti abbiamo riscontrato sono state quelle di una sostituzione di alcuni membri della commissione varie volte insomma. Francamente troppo poco per alimentare i dubbi anche se... Quello che ci ha lasciato un po' perplessi era il fatto che la persona che poi ha vinto il bando era stato precedentemente assunto con un contratto da dirigente a tempo determinato un rapporto fiduciario presso questa amministrazione. Cioè lui praticamente ha vinto il concorso dopo aver fatto un periodo di lavoro a tempo determinato come dirigente presso questa amministrazione. Siccome non è il primo caso che si verifica riteniamo giusto e corretto portarlo all'attenzione dei cittadini. Perché non riconoscere semplicemente le capacità, le qualità e la preparazione del nuovo dirigente? Fidarsi è certamente un bene anche se i due gruppi stanno ravvalutando l'ipotesi di un esposto.